Una nuova max inchiesta sullo stato degli edifici scolastici e pubblici è stata aperta dal procuratore Ettore Picardi a Teramo. L'inchiesta segue l'esposto presentato dall'ex preside Lino Befacchia, il professore Elso Serpentini e lo storico Luigi Ponziani dopo il sequestro del convitto e del liceo delfico. L'indagine si concentra non solo sugli indici di vulnerabilità stabiliti dalle nuove norme introdotte nel 2018 dal Ministero delle Infrastrutture, ma anche su una dettagliata analisi delle condizioni di staticità degli edifici. La Polizia Giudiziaria ha iniziato a raccogliere documentazioni riguardante la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici, oltre alle certificazioni di consolidamento. Abbiamo ritenuto di dare clamore, non lo scopo di sovvertire il mondo, quanto di dare risonanza ad un evento che era passato un po' sotto silenzio per la modalità sulla quale è difficile essere d'accordo. La modalità che io ho definito truculenta perché chi vive nella scuola ha in custodia studenti minori e questa custodia deve garantire le famiglie, lì in due ore tutti fuori. E sinceramente non ho capito questa urgenza, si poteva anche convocare una conferenza stampa, avvisare la città, perché le sentenze si applicano, non si discutono. Poi uno può riflettere, noi non abbiamo impugnato la sentenza, ci siamo limitati a dire che il gesto era davvero di una gravità estrema. Nel 2018 un decreto di archiviazione aveva chiuso la prima max inchiesta della procura terramana su 32 scuole esaminate dopo il terremoto del 2016. Tuttavia il recente sequestro del defico e l'esposto hanno riacceso l'attenzione su altri edifici pubblici di Teramo, comprese scuole e uffici. Intanto entrando un po' nel merito, perché non l'abbiamo scritto noi, l'hanno redatto degli avvocati e quindi hanno colto degli elementi deboli nella motivazione dell'ordinanza di chiusura. Peraltro ci siamo detti che se l'orcoscope e la salute pubblica, tutti gli edifici della città sono tutti quanti vulnerabili, quindi non è possibile che si colpisca solamente un istituto. Qui occorre che tutta la collettività rinsavisca e assuma tutte le responsabilità in tempi congrui, non alle calende greche. Qui occorre che tutta la collettività rinsavisca e assuma tutte le responsabilità in tempi congrui.